Wessex, Inghilterra Meridionale. La cittadina di Warminster, al centro del mistico triangolo formato da Glastonbury, Stonehenge e Elbury, a metà degli anni Sessanta divenne famosa quando nei suoi dintorni si cominciarono a registrare numerosi avvistamenti di UFO. Poi la stessa zona è divenuta teatro di uno sconvolgente fenomeno, diventato uno dei più grandi interrogativi del nostro tempo, il mistero dei cerchi nei campi di grano. Con il trascorrere degli anni i cerchi sono aumentati di numero e in complessità, fin quando nel 1990 ci fu un salto di qualità. Da semplici tracce circolari divennero elaborati i pittogrammi, il cui significato rimane ancora un mistero, un mistero che noi ora vorremmo analizzare. La nostra prima tappa è la capitale inglese, Londra, per incontrare Joe Michel, che da molti anni studia il contesto culturale del fenomeno dei cerchi nel grano. Michel pubblica da vari anni il trimestrale specialistico dei serialogist. I cerchi nel grano incarnano un fenomeno di enorme interesse, una sfida al mondo scientifico che non riesce a farsene una ragione. Sono una minaccia per la scienza e questo in un certo senso mi rallegra, perché ritengo che la percezione razionale e materialistica di ciò che ci circonda sia responsabile delle molte crisi che affliggono il mondo odierno, anzi direi di tutte le crisi internazionali. È giunto il momento di andare oltre questo modo di interpretare le cose. I cerchi nel grano sono in netto contrasto con il nostro modo di vivere il mondo in modo razionale. I primi cerchi furono notati da ricercatori di UFO durante gli anni 60 e 70 e furono chiamati nidi di UFO. Abbastanza piccoli e di aspetto semplice, suscitarono scarso interesse. Il fenomeno non attirò l'attenzione del grande pubblico fino al 1980, quando delle tracce più ampie furono scoperte nei pressi di Westbury. Fatto piuttosto rilevante, tutti i cerchi originali apparivano concentrati nella zona fra World Mister e Westbury, dove sono state segnalate decine di avvistamenti UFO. Ma già diversi anni prima, quanti volessero vivere esperienze di incontro con strane luci ed oggetti non identificati, erano soliti frequentare la zona tra Westbury e World Mister per via dei molteplici avvistamenti. Ecco, è singolare che il fenomeno dei cerchi si sia evidenziato proprio lì e che da allora il loro numero si è andato aumentando ogni anno, così come anche la complessità dei disegni. I tracciati paiono ora disposti nei pressi di antichi santuari e soprattutto attorno ad Eburi. La seconda tappa della nostra spedizione è la contea del Wiltshire. Come è già avvenuto nel passato, nell'estate del 1991, scienziati e ricercatori provenienti da tutto il mondo si riunirono qui, nell'Inghilterra meridionale, per tentare di svelare il mistero dei cerchi nel grano. I ricercatori, essenzialmente giapponesi, insieme ad alcuni colleghi britannici, stabilirono un osservatorio sulla sommità del colle Adamsgrave, in modo da dominare il villaggio di Alton Barnes, impiegando il meglio della tecnologia disponibile, incluse telecamere ad infrarossi e microfoni direzionali ultrasensibili, al fine di cogliere in flagrante gli autori dei cerchi. Ebbene, tre pittogrammi comparvero ai piedi del colle, ma il mistero non è stato ancora svelato. Providiamo questa grande formazione. Apparve nelle prime ore del 2 luglio 1991, misura un centinaio di metri in lunghezza, e venne notata dal conducente di un furgone nelle prime ore del mattino. Il campo era completamente coperto dalla foschia, e il disegno si è prodotto proprio in quelle ore sotto la coltre di nebbia, quindi nessuno ha visto niente. Durante la notte, a luna e trentotto, un bracciante agricolo di nome Malcolm Harry, che alloggiava nel villaggio alle mie spalle, fu svegliato da un fortissimo rumbo che attribuì ai motori di un aereo da trasporto C-130 Hercules, che sorvolò il villaggio, secondo il suo racconto, appena sopra i tetti delle case. Si precipitò giù dal letto e si sporse dalla finestra, ma non c'era nulla. Il rumbo fu sentito anche da altri abitanti del villaggio ed alcuni di essi pensarono «Mio Dio, i cerchi sono tornati!» Perché proprio in questo campo, il 12 luglio del 1990, era apparsa una gigantesca formazione, leggermente più grande di quella attuale, ed ormai molto famosa. Si tratta della prima traccia di Alton Barnes e le foto fecero il giro del mondo attirando migliaia di turisti. Si trova non più di 200 metri da quella più recente e ad altri 200 metri in direzione del villaggio. I turisti pagarono una sterlina a testa per visitare la formazione e devo dire di non aver mai visto tante persone vivere un'esperienza allucinogena senza aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Accorrono ancora migliaia, forse in numero leggermente inferiore, ma solo perché in questa zona ormai i cerchi sono troppo numerosi. Appena nove giorni dopo l'apparizione di questa formazione, un'altra venne rinvenuta a sole quattro miglia di distanza nei pressi di Marlborough e dopo soli tre giorni fu notata questa formazione più piccola a sinistra. Era il 5 luglio. Il 19 luglio è stata la volta di quell'altra, sulla collina o laggiù, una formazione simile ad una chiave. Abbiamo dunque tre notevoli crop circle nelle immediate vicinanze e creati in un lasso di tempo molto breve. Circa tre settimane. In seguito ad approfondite ricerche sull'antico folclore locale, abbiamo scoperto quattro scritti che sembrano fare riferimento ai misteriosi cerchi scoperti nell'Inghilterra centro-meridionale. Le date degli scritti vanno dal 1618 fino al 1680. Questo sembra indicare che vi fossero delle impronte analoghe verso la metà del XVII secolo. Comunque una cosa è certa. Nel 1946, in località Pepperbox Hill, presso Salisbury, nella contea di Wilshire, furono osservati due cerchi nel grano e cerchi simili continuano ad apparire tuttora. Siamo in possesso di informazioni e prove documentali che riguardano un sito presso la città di Tully, nello stato australiano del Queensland, dove nel 1965 vennero osservate sette o otto formazioni analoghe, senz'altro riconducibili allo stesso fenomeno, oggetto delle nostre analisi. Da quell'anno, fino al 1975, vi è un vuoto nella nostra documentazione. Poi, nelle vicinanze di una fattoria nei pressi di Winchester, nello Hampshire, si evidenziò un unico cerchio, seguito l'anno successivo da un altro. Il primo rilevamento multiplo, cioè il primo complesso di disegni formato da cinque tracce, apparve nel 1978, un paio di miglia a nord di Winchester. Poi, fino ai nostri giorni, il fenomeno ha subito una costante e intensa proliferazione che ha toccato tutta l'Inghilterra centro-meridionale, ma in modo particolare le contee dell'Hamshire e del Wiltshire. In queste regioni si sono avuti rilevamenti sempre più numerosi, con una significativa evoluzione nella complessità, nell'estensione e nella densità dei tracciati. In un unico campo di circa 10 acri abbiamo rilevato 32 impronte. Anche i motivi stessi dei tracciati hanno subito una marcata evoluzione. In poche parole, abbiamo tentato di fare il punto della situazione di questo fenomeno che va dalla metà del XVII secolo fino ai nostri giorni. L'incidenza del fenomeno segue una curva esponenziale. Ho lavorato con il dottor Terence Millen per diversi anni nel tentativo di circoscrivere dei dati precisi rispetto all'ipotesi del vortice di plasma, vale a dire ad un fenomeno di carattere meteorologico per verificare se la tesi fosse o meno fondata. Francamente, dai risultati siamo portati ad escludere definitivamente qualsiasi correlazione con cause naturali. Sono certo, sulla base della nostra vastissima banca dati, che ci troviamo al cospetto di un fenomeno intelligente in qualche forma o maniera. Non ho la benché minima idea sulla provenienza di questa fonte intelligente o su quale sia il suo scopo, ma i nostri dati suggeriscono l'esistenza di qualcosa consapevole della propria esistenza, del luogo in cui si trova e delle sue azioni. L'ingegnere Pat Delgado, amico e coautore di Andrews, ha lavorato per la NASA e l'aviazione britannica nella costruzione di razzi. Cominciò ad interessarsi al fenomeno dei cerchi nel 1981 dopo l'apparizione di tre cerchi nel Punchbowl, un anfiteatro naturale poco distante da Winchester, l'antica capitale sassone. A distanza di 15 anni, ogni estate continuano ad apparire misteriosi tracciati circolari nell'anfiteatro. Abbiamo accompagnato Delgado mentre effettuava un sopralluogo di nuovi pittogrammi, una stella a sei punte. Si tratta di un cerchio estremamente significativo, possiede tutte le caratteristiche di un vero crop circle. Ho ricontrato dettagli interessanti dove le spighe sono state abbattute al centro del tracciato e nell'orientamento delle punte o petali. Visto dall'alto, il pittogramma sembra proprio un fiore con sei petali tracciati all'interno di un anello, anzi, due anelli in questo caso. È molto interessante. Ho notato alcuni dettagli che combaciano con quelli di un altro tracciato manifestatosi solo la settimana scorsa dall'altra parte della collina. Entrambi sono cerchi veri. Questo più recente è stato trovato solo ieri notte. Sembra che la metodologia della loro creazione somigli molto a quella che ho descritto nel nostro libro, ossia come siano stati prodotti da una pennellata di energia che impartisce un ordine particolare a ciascuna spiga. Lì la pennellata sembra sia stata fatta con un fascio di energia largo appena 20 centimetri ma senza riempire i contorni. Prendiamo ad esempio questo petalo. Immagini una pennellata qui, poi un'altra in quel verso per poi riempire questo spazio proprio come si dipingesse su un foglio di carta. Da quella parte sembra che abbiano iniziato con una riga singola per poi decidere di non completare il petalo in quella posizione. Avrebbero potuto farlo ma non lo hanno fatto. Sono sufficientemente sicuro che questo sia il metodo usato, ossia impulsi di energia che programmano il piegamento di ciascuno stelo in un determinato modo. In una seconda fase, forse persino dopo alcune settimane, il meccanismo viene avviato o innescato e le spighe vengono piegate nel modo prefissato quando non c'è nessuno nei dintorni e quasi sempre di notte. Ecco il meccanismo della creazione dei tracciati e questo ne è un esempio perfetto. Lo stesso atteggiamento di grande stupore e di notevole perplessità regna comprensibilmente fra gli agricoltori sui cui campi sono apparsi i cerchi. Il signor Martin Pitt ha sempre ritenuto che i cerchi fossero solo un inganno ma il 13 agosto 1991 scoprì un gigantesco pittogramma su un suo terreno. Il cerchio ed il resto del tracciato in questo campo sono stati notati ieri mattina ed io ne sono stato immediatamente avvertito alle 7.30. Sono certo che in precedenza non vi fosse niente perché ero passato qui la sera prima. Ho cercato attentamente una qualsiasi traccia di presenze umane ma non ho trovato nulla orme, tracce di trattori auto parcheggiate nei dintorni niente. Comunque se qualcuno fosse entrato in questo campo la sera precedente si sarebbero viste delle luci per illuminare i rilievi molto complessi necessari alla realizzazione del tracciato. Durante la mia ispezione ho trovato l'intera zona perfettamente piatta liscia come se le spighe fossero state addirittura spazzolate in posizione. All'esterno del perimetro del disegno le spighe erano tutte in posizione verticale intatte mentre all'interno del disegno le altre erano perfettamente adagiate tutte disposte nello stesso verso. Proprio al centro della traccia ho notato un ciuffo di spighe poco danneggiato e disposto come una spirale con lo stesso andamento delle spighe appiattite aveva l'aspetto di un grande cavatappi con le braccia della spirale che si allargavano sempre più. Devo far nuovamente notare che il tutto era perfettamente liscio come un tavolo da biliardo ogni singola spiga spazzolata ed adagiata esattamente nella posizione che le spettava. Attorno ho trovato anche complessi tracciati che partivano dal disegno centrale tutti perfettamente rettilinei. Questa linea alle mie spalle è una retta assolutamente perfetta. Noterete anche che le distanze fra i vari elementi del tracciato i satelliti sono identici. Questo cerchio centrale con la sua spirale centrale è esattamente della misura voluta. Non ho la più pallida idea di come il disegno sia stato prodotto. Non avevo mai trovato un cerchio sulle mie proprietà e sinceramente pensavo si trattasse semplicemente di qualche inganno. Invece sono certo che non può essere in alcun modo collegato con l'uso di fertilizzanti chimici. Il tracciato non segue affatto i binari ossia i sentieri seguiti dai trattori per spargere i fertilizzanti e le sostanze chimiche e vi assicuro che nessuna nostra attività agricola può aver causato questa formazione. altri agricoltori possono testimoniare come le manifestazioni dei pittogrammi continuino ormai da molti anni e non accennino a diminuire. Appaiono improvvisamente sui loro campi di grano in fogge e disegni diversi senza alcun preavviso. di grano Il rilevamento aereo è il più indicato per studiare questo fenomeno. Noi ci siamo osserviti di un elicottero. Nel settembre 1991 la stampa internazionale scrisse che il mistero dei cerchi era stato risolto. Due anziani pensionati Doug e Dave avevano ammesso che durante i precedenti 13 anni avevano prodotto con le loro mani una grande quantità di cerchi ingannando sia il pubblico che gli scienziati. Ma si hanno ottime ragioni per non credere alla loro dichiarazione. Infatti tutti gli elementi disponibili indicano che il fenomeno non è affatto una contraffazione e che la sua matrice pur permanendo non identificata si cela in una dimensione dalla quale indisturbata può rivelarsi attraverso un linguaggio altamente evoluto simbolico ed ancestrale che alcuni vogliono interpretare sottintendendone persino una forza spirituale che si esplica nei messaggi racchiusi nei cerchi. grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per conto del centro studi dei cerchi nel grano britannico non passa settimana che le sue ispezioni dall'alto non ottengano risultati e Basti ne ha segnalati più di chiunque altro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.